Il piano sociale di zona S10 con Sala Consilina Comune Capofila si è visto assegnare un maxifinanziamento da 3.200.000 euro per gli asili nido e i micronidi ospitati nei comuni afferenti al piano. Nel dettaglio sono stati destinati fondi al nido di Sala Consilina e di Atena Lucano e ai micronidi di Padula, Pollo e Teggiano, Auletta, Sant'Arsenio, Montesano sulla Marcellana, Sassano e Sanza. Con il piano di zona si è ottenuto un finanziamento di 3.200.000 euro per la gestione dei due nidi Sala Consilina e Atena e degli altri otto micronidi che fanno parte sempre nell'ambito del piano di zona. Un finanziamento che sicuramente ci darà tranquillità di poter gestire per i prossimi due anni da un punto di vista di organizzazione interna nel migliore dei modi, cercando di implementare e migliorare sempre la qualità dei nostri servizi, sia da un punto di vista di insegna di didattica, sia da un punto di vista di implementazione di quelle che sono le strutture indispensabili che servono per il miglioramento della qualità del lavoro didattico. Nell'ambito di questa soddisfazione per il comune di Sala Consilina sicuramente è doppia perché non solo come presidente del piano di zona ma sicuramente come città del comune capofila, Sala Consilina il finanziamento ha riguardato Sala per un importo di 630.000 euro che è rapportato al numero dei bambini che sono all'interno del nido. Quindi per noi in una struttura che è in continua crescita e che ospita sempre un numero maggiore di bambini, non solo di Sala Consilina, è un motivo di grandissima soddisfazione. Di questo voglio ringraziare anche la struttura del piano di zona e la persona del coordinatore, dottor Antonio Florio. Credo che anche questo sia stato un lavoro in sinergia, un lavoro di equip, quindi grazie anche a tutti gli altri sindaci che fanno parte del piano di zona, sia coloro che hanno come sede, che hanno una sede del nido all'interno del loro territorio, sia quelli che non l'hanno. Credo che attraverso questo lavoro in comune, questa unicità di obiettivi sicuramente sia ottenuto un grandissimo risultato che comporterà il miglioramento del servizio e la preparazione dei nostri giovani, della nostra giovane e futura classe dirigente fin da quando sono al nido.